Bene, dunque la Banca Agricola Popolare si fonde con la Banca Popolare Sant'Angelo, diventa BAPS, sono nostri clienti, ci fa piacere avere clienti così importanti, è una banca che oggi vedrete a Palermo, a Trapani, a Ragusa, a Catania, a Siracusa, perché la Banca Agricola prima era più sulla parte orientale, ora con questa funzione va sulla parte occidentale. Notate il nuovo logo, il verde, anche questo fatto sembra un po' un figopallo che poi è un po' il simbolo anche di questa terra siciliana. Parliamo di trasporti, facendo ridere tutto il mondo con la questione dell'aeroporto, mettila come vuoi all'aeroporto di Comito, c'è un volo al giorno, forse due in alcuni giorni, ma senza voli in altri giorni. Questo vuol dire che tutte le cavolate che sono state dette in conferenza stampa, lasciano il tempo che trovano, i due aeree, ora mettiamo un aereo qua, ora arriva, ora vi faccio vedere. Noi di tutte queste notizie ancora non abbiamo certezza e quindi l'aeroporto è quello che è. Siccome l'aeroporto non funziona, o meglio è poco frequentato, per muoversi la ferrovia non esiste, almeno per tutto quest'anno non ce n'è e sarebbe utile, ora, soprattutto quando con i lavori della nuova autostrada, è l'unico mezzo che funziona, ha sempre funzionato, per il trasporto traffico, e diciamo i pullman dell'Etna che fanno un servizio encomiabile, ma non perché lo dico io, ma perché proprio i cittadini hanno sempre potuto contare sulla puntualità, l'organizzazione, la gentilezza di tutti quelli dell'Etna Trasporti, che come voi sapete fa 17 corse, pensate al giorno, andate al ritorno da Ragusa a Canaria, fino alla stazione, passate all'aeroporto, tutte queste cose qua. Quindi un servizio inappuntabile. Ora però succede che da un po' di tempo, ed è stato pubblicato un post, una lettera di alcuni pendolari, hanno lamentato il fatto che, mentre prima il pullman del 17.30, faccio un esempio, era lì e alle 17.30 partiva, perché era importante anche la puntualità, oggi capita che il pullman del 17.30 deve aspettare che arrivi, cioè non c'è il pullman, bisogna aspettare che arriva, perché è partito dall'altra parte, è un po' come gli aerei, no, se quello ha un ritardo, che non è che gli aerei sono tutti lì, aspetta, arrivano, riparto. E questo che cosa dicono quelli, i pendolari? Questo naturalmente crea dei ritardi, ma anche sottopone a uno stress di autisti, che non hanno neanche mezz'ora per riposare, arrivi dopo averte fatto tutta la Ragusa a Canaria, almeno fatti mezz'ora di camminata, vai in bagno, no, devi subito ripartire perché sei già in ritardo. Questa è la lamentela che hanno avanzato i pendolari, dicendo anche che purtroppo i ritardi sono abbastanza notevoli anche a causa della strada. Abbiamo contattato la direzione dell'Etna Trasporti che ci ha detto, purtroppo, purtroppo, la strada è quella che è, e quindi ci sono dei ritardi, il caos, il traffico e su questo non ci sono dubbio. Noi dobbiamo gestire 17 coppie di collegamenti, cioè Catania-Ragusa, Ragusa-Catania, e sono 17 al giorno. Con questi ritardi, con i problemi anche economici, dobbiamo stare attenti perché gli autisti vengono pagati per gli straordinari, dobbiamo garantire il riposo degli autisti. Insomma, è una situazione un po' delicata, ma chiediamo ai cittadini di avere un po' di pazienza. Stiamo studiando delle soluzioni. Le soluzioni potrebbero essere levare una corsa, e allora dice, ah, se leviamo una corsa, sì, ma che si può fare? Se una volta si impiegava per ditto un'ora e trenta per andare a Catania, ora se ne impiegano due, è mezz'ora qua, è mezz'ora là fa un'ora. E' chiaro che un'ora su 17 ci vuole un altro giorno, e quindi non c'è dubbio che una soluzione deve essere trovata. La segnalazione viene ripresa dal lettero a trasporti, ma non c'è dubbio che ci vuole un attimo di pazienza, perché la situazione è quella. Io dico, l'Aragusa-Catania sarà sempre peggio, perché oggi hanno iniziato i lavori da poco, ma sono lavori di lato, hanno messo l'esercito, quando si inizierà davvero? Ah, non lo so se ci conviene andare da Grigente e poi andare a Catania, o a Gela e andare a Catania dalla Catania a Gela. Probabilmente bisognerà trovare delle sport alternative, andare da Siracusa, come già fanno tutti i pullman, di Modica, Scicli, Pozzallo, ma loro già conviene, vanno tutti dall'autostrada, non fanno più l'Aragusa-Catania. Questo è quello che purtroppo dobbiamo dire. A questo punto ci spostiamo per parlare di Nautica, perché l'estate è estate, non c'è dubbio. Qui siamo in estate. Qualcuno mi ha detto che fate a Capodanno? A Capodanno. Qua ne facciamo i bagni, siamo in estate piena, abbiamo fatto le feste di marina, Ciccio Barone ha asfaltato l'amministrazione comunale facendo quattro soldi di manifestazione, diciamo che con quattro soldi l'abbiamo fatta e quelli hanno speso milioni. E quindi diciamo che la regione siciliana ha guardato con grande attenzione a questo salone della Nautica che si chiama Sisili, Sea come mare, e poi Cili, Sea a mare. Quindi, questo salone è stato inaugurato normalmente a Palermo nel porto di Balestrate, grazie agli investimenti nelle strutture che sta diventando sempre più un punto di riferimento importante per lo sviluppo del turismo marittimo e una risorsa preziosa per l'economia locale. L'assessore ha sottolineato che eventi come il Sisili possono diventare catalizzatori per l'intero comparto. Beh, basta dire quello che è accaduto in questi giorni che sta accadendo a Barcellona per quanto riguarda la questione della Coppa America con le barche. Cioè, quando ci sono i porti turistici e siccome abbiamo detto più volte che agli soldi ci sono e ci sono quelli che hanno tanti soldi e che ci sono tanti yacht basta vedere il porto di Marina di Ragusa se lo sono comprati i maltesi perché loro, che siccome non hanno più spazio per le barche che vanno a Malta si sono comprati il porto di Ragusa per poter portare le barche e utilizzano il famoso catamarano che qualcuno dice ah, quando inizia questa cosa lo utilizzeranno soprattutto loro perché loro cosa fanno? Vendono lo spazio a Marina di Ragusa con il trasporto incluso. Metti caso, sono inglesi che arrivano direttamente da Londra ci arrivano a Valletta li mettono sul catamarano e li portano a Pozzallo come se fosse un trasferimento a Londra perché voi sapete che se tu arrivi faccio un esempio a Londra Stuncet per arrivare al centro di Londra ci vuole un'ora e mezza e questa, allora sentiamo cosa dice Eddie Damaio che ha inaugurato lo vedete questa manifestazione cosa dice sul turismo nautico?